Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono TonyGamer17 e ragazzi Oggi ho voluto fare questo video perchè ho accumulato un milione di visualizzazioni in questo effetto sonoro Horror, quindi molti di voi quando cercavano effetti sonori Horror, effetti sonori Horror, porcazzo, horror Come primo video esce il mio Poi il resto, altri, vabbè, ci sono anche altri dei miei effetti Anche questo qua delle horror straziane, sono i horror terrificanti, 400.000 visualizzazioni, veramente grazie Quindi gli effetti sonori fanno per me Poi abbiamo anche tutorial tech Con l'attivazione di Windows Tutorial soprattutto come risolvere problemi anche con Bluestacks, gli antivirus Shaders su Minecraft, errori nei giochi MSI Afterburner che è molto importante usarlo e controllare la nostra scheda video Epic Games che non si avvia Cosa abbiamo più? Shaders, del ray tracing Di Minecraft e tutte queste cose qua Farm Che c'è più? Ragazzi, se avete bisogno entrate nel mio server Discord Per qualsiasi cosa, siamo una sessantina di membri Quindi molte persone entrano Hanno bisogno di quello, quello e quello Quindi io glielo do E niente Quindi veramente Vi ringrazio ancora In questi, vabbè Verità Sto su YouTube da due anni in attività Dico Cioè in attività sto Da due anni e mezzo Sì, due anni e mezzo Però, vabbè Sono rimasto pure inattivo per qualche anno E quindi questo video l'ho buttato sul canale Ed è salito così, vabbè Quindi grazie a tutti per questa visione Ci tenevo moltissimo a fare questo video Quindi ragazzi lasciate like Iscrivetevi al canale Seguimi su Twitch, Instagram E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video E questo prossimo video sarà un tutorial Se avete bisogno di tutorial Tech, come scaricare cose così Oppure giochi Scrivetelo nei commenti E ci penso io Li possiamo anche testare E vedere se funzionano come Il nostro carissimo video Vediamo un po' dove sta Eccolo qua Ready or not Questo video 10 giorni fa Ho visto che Sta facendo Cioè diciamo che Sta spopolando su Steam Come miglior gioco shooter Che sembra un gioco fatto Apposta Come la SWAT FBI Cose così Ed è meglio di Rainbow Six Diciamo così meglio di Rainbow Six Solo che ha bisogno anche Di qualche aggiustatina Quindi Ragazzi Io vi saluto Vi saluto Ciao Grazie a tutti Sì, sì, sì! Aaaaaah! 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 Sì, sì, sì. Sì, sì.